La comprensione completa e profonda del racconto della commedia deve tener conto di un dato essenziale della cultura medievale. Ogni aspetto della realtà materiale ha valore in se stesso, ma nello stesso tempo è simbolo delle verità sopranaturali, segno della presenza di Dio. Rispetto ai testi scritti erano stati codificati quattro livelli di interpretazione, senso letterale, senso allegorico, senso morale e senso anagogico. La lettera insegna quanto è avvenuto, l'allegoria quello che devi credere, la morale quello che devi fare, l'anagogia il fine a cui devi tendere. L'inferno viene concepito da Dante come una gigantesca voragine a forma di cono rovesciato, che si apre nell'emisfero boreale sotto Gerusalemme e giunge fino al centro della Terra. La sua origine risale ai primi tempi della creazione. Quando in cielo Lucifero, il più bello degli angeli, si ribellò all'autorità divina, Dio lo punì con i suoi seguaci, precipitandoli sulla Terra, che inorridita per l'empietà si ritirò dando origine al baratro infernale. La rovinosa caduta di Lucifero si arrestò al centro della Terra, dunque nel punto più lontano da Dio. Lì rimase conficcato per l'eternità e lì lo vedrà anche Dante. Intanto, la massa di Terra che si era ritratta alla caduta di Lucifero si era spostata nell'emisfera australe, al centro dell'oceano e agli antipodi di Gerusalemme, creando la montagna del Purgatorio, sulla cui sommità si trova il paradiso terrestre. Il baratro infernale è preceduto da un ampio vestibolo, l'antinferno, dove sono puniti gli angeli che nello scontro con Dio rimasero neutrali. Con essi, gli uomini gnavi, che per il rifiuto di schierarsi durante la vita per il bene o per il male, sono adesso rifiutati dall'inferno stesso. Varcato il fiume a Cheronte, si entra nel primo cerchio, il limbo, dove si trovano le anime dei bambini morti senza ricevere il battesimo e di quanti non conobbero il vero Dio, ma seguirono le buone indicazioni della natura umana. Privi di tormenti fisici, essi sono tormentati in eterno dal desiderio di Dio. Da qui in giù comincia l'inferno vero e proprio, caratterizzato dalle più tremende e varie pene fisiche. L'inferno è diviso in nove cerchi concentrici e digradanti fino al centro della Terra, dove è conficcato Lucifero, il principe delle tenebre. Le colpe sono classificate secondo le due malvagie tendenze del cuore umano, l'incontinenza, la malizia, distinta in violenza e fraudolenza. Gli incontinenti sono puniti in cinque cerchi infernali, dal secondo al sesto. Essi diressero l'amore verso fini, persone e cose di per sé buoni, ma in maniera sconsiderata. Il settimo cerchio è riservato ai violenti, suddivisi in tre gironi, ma il più grave dei vizi è la fraudolenza, perché è esercitata dall'uomo col supporto della ragione. Per questo è relegata nel fondo dell'inferno, in due diversi cerchi. L'ottavo cerchio ospita i fraudolenti in chi non si fida, ed è ulteriormente diviso in dieci bolge, le malebolge, dieci fosse concentriche scavate nella roccia, collegate da ponticelli di pietra. I fraudolenti, in chi nutriva fiducia in loro, e quindi i traditori, sono invece conficcati nel cerchio più basso, il Nono, una ghiacciaia alimentata dalle acque del fiume Cocito e raggelata dal vento delle sei ali di Lucifero, dove sono imprigionati i traditori dei congiunti, la caina, della patria, l'antenora, degli ospiti, la tolomea, e dei benefattori, la giudecca. Bruto, Cassio e Giuda, i tre traditori più noti della storia civile e sacra, sono orribilmente maciullati dalle tre bocche di Lucifero stesso, per l'eternità. Per stabilire la pena dei dannati, Dante si rifà la tradizione giuridica medievale, il criterio della punizione e dunque il contrappasso. I peccatori sono puniti con una pena che, per analogia o per opposizione, si ricollega alla colpa commessa.